strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano ben trovati da giulio gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di strategia digitale questa è la seconda puntata dedicata ai souvenir digitali abbiamo aperto per chi si fosse perso qualcuna delle ultime puntate un nuovo filone un giorno che oggi giovedì totalmente dedicato ai souvenir digitale cosa sono i souvenir digitali souvenir digitali sono tutte quelle cose applicazioni app per cellulare libri film software servizi online qualsiasi altro genere di contenuto che può cambiare in meglio la mia vita o il mio lavoro nel mondo digitale e oggi vi parlerò di un souvenir con i fiocchi un souvenir che ho provato personalmente per organizzare una mia presentazione la presentazione del mio ultimo libro su youtube a milano il 18 ottobre insieme al mio carissimo amico luca mazzucchelli benissimo sto parlando di event bright all'italiana event bright all'inglese chiamatelo come vi pare il succo che questo servizio questa applicazione vi consente di organizzare un evento gestendo tutte le parti più noiose e faticose dalla creazione della landing page fino alla fatturazione o alla creazione della lista per far per scrivere quando le persone arrivano a fare il check in scrivere chi c'è chi non c'è vi permette di farlo in maniera semplicissima attraverso il digitale quindi ora scopriremo insieme quali sono le caratteristiche come funziona event bright ma prima ci tengo a ringraziare i nostri finanziatori coloro che attraverso il link you media web punto com slash finanzia hanno deciso di versare una quota mensile da pochi euro fino a un bel numero di euro per il nostro podcast cito la nostra grande finanziatrice roberta andreoni lei da 50 dollari al mese per consentire al sottoscritto di portare nelle tue orecchie il podcast che stai ascoltando insieme a lei ci sono altri coraggiosi io li nomino tutti una volta al mese li ringrazio ogni in ogni puntata attraverso la nostra grande finanziatrice roberta andreoni fatelo anche voi ragazzi questo podcast ha bisogno di questo supporto per due motivi uno per essere fatto anche da voi due per poter continuare nel tempo con quantità e qualità degli episodi e se in qualche modo questo podcast vi è d'aiuto nella vostra vita nel vostro lavoro attraverso il mondo digitale beh allora vale la pena di riconoscergli un compenso un valore anche economico ma ora ragazzi è arrivato il momento di scoprire come organizzare eventi attraverso event bright allora come è nato tutto sapevo io che esisteva event bright da anni in realtà perché già quando lavoravo insieme a robin good varie anni fa utilizzavamo event bright per organizzare eventi online e lui ha continuato a utilizzarlo negli anni ma non mi era mai capitato ultimamente di dover curare al 100 per cento l'organizzazione di un evento quindi non l'avevo mai utilizzato negli ultimi anni rimettendo le mani su event bright mi sono accorto che si è completamente trasformato ha evoluto tutto il suo funzionamento di pari passo con le ultime tecnologie quindi ci tengo a spiegarvi diciamo cinque motivi per cui lo trovo uno strumento fondamentale se vuoi organizzare un evento cominciamo dal primo motivo prima di tutto come devo fare per utilizzare è event bright vado su www.eventbrite.it se non ho detto bene l'indirizzo lo trovate nelle note dell'episodio quindi sapete che potete fare con un click e finire direttamente su event bright e iscrivervi quindi vi registrate in maniera normalissima quando vi siete registrati avete fatto il login potete creare un nuovo evento si fa in maniera molto semplice da un pulsante che appare in alto a destra che io ce l'ho in inglese create new event ci clicchi sopra e puoi creare la tua landing page questo è il primo motivo con event bright puoi creare una landing page ora probabilmente naturalmente se qualcuno di voi non conosce che cos'è una landing page una landing page è una pagina dove faccio atterrare le persone che invito al mio evento in questo caso potrei anche potrebbe essere una landing page per vendere un prodotto noi stiamo parlando di event in questo caso e attraverso quella pagina vado a vendere i biglietti del mio evento e fino a qua tutto tranquillo uè Gaudiano ma io ho il mio sito web la landing page me la faccio sul sito ecco beato te che te la fai sul sito in realtà quello che vedo il più delle volte nell'esperienza dei miei clienti anche nell'esperienza di colleghi che sono molto schillati molto abili con le tecnologie digitali è che se devi fare una landing sul tuo sito e devi non solamente buttare lì una pagina ma creare una pagina accattivante dal punto di vista grafico che funzioni bene che sia che tracci le persone che vengono da dove vengono quante persone vengono quanti si scrivono di quelli che hanno visto la pagina insomma una vera e propria landing page monitorata per darti tutti i dati che ti servono per fare marketing ecco per farlo sul tuo sito web al minimo devi chiamare il tuo programmatore e farti aiutare o chiamare il web designer e farti aiutare oppure magari non hai un sito web hai solo una pagina fan oppure non c'è neanche la pagina fan e vuoi creare un evento allora event bright ti permette di scrivere le informazioni che riguardano l'evento che poi sono le famose 5 w 5 domande del giornalismo americano che cosa quando dove chi e perché no che si tratta che evento è quando avrà luogo questo evento dove avrà luogo chi lo organizza e perché ci dovrei andare tutte queste informazioni event bright te le fa scrivere all'interno di un form molto semplice per esempio appena scrivi l'indirizzo ti fa vedere che geolocalizza il luogo dell'indirizzo sulla mappa e da queste informazioni attraverso un processo ottimizzato pensato dagli sviluppatori di event bright ti si crea automaticamente una landing page molto molto carina con per esempio un'animazione una comparsa come posso dire con una dissolvenza in entrata del titolo in sovrapposizione all'immagine ti chiede di mettere un'immagine del dell'evento e inserendo quell'immagine questa viene automaticamente modificata per essere delle dimensioni ottimizzate per la pagina avere un layout responsive quindi se le persone si collegano da mobile non vedono l'immagine sfondata o troppo piccola o troppo grande insomma tutte queste informazioni che tu fornisci questi dati queste cinque le risposte a queste cinque domande più un'immagine che descriva l'evento vengono impacchettate da event bright in una landing page molto molto carina a questi dati si vanno a sovrapporre dei dati dinamici per esempio le informazioni sui partecipanti o i prezzi dei biglietti insomma tutte le informazioni che creerai che inserirai all'interno della creazione del tuo evento verranno sistemate da event bright nell'ordine che il team di event bright che se ne intende di eventi di landing page di eventi ritiene in generale più performanti quindi hai una consulenza gratuita sostanzialmente per la creazione della tua landing page e questo è secondo me il primo grande vantaggio un secondo grande vantaggio ha a che fare con la gestione dei biglietti dei biglietti che daranno accesso al tuo evento infatti se il tuo evento sia che il tuo evento sia gratuito e qui puoi creare i biglietti gratuiti e dare la possibilità alle persone di partecipare di iscriversi gratuitamente ma dandoti tutti i dati quindi event bright raccoglie per te i dati delle persone e ti permette anche di vendere un numero limitato di biglietti magari vuoi fare un evento gratuito ma riservato a 20 persone ecco puoi creare il tuo biglietto gratuito consentire alle persone di iscriversi tenerne traccia e fare in modo che arrivati a 20 non si possano più iscrivere fa tutto event bright in automatico se poi vuoi creare un evento a pagamento puoi accostare alla formula gratuita dei biglietti a pagamento o escludere completamente i biglietti gratis e creare varie tipologie di biglietti per esempio i biglietti i primi biglietti in offerta lancio quelli che si chiamano early bird con un prezzo e definisci il numero di biglietti early bird che vuoi vendere e poi metti un altro prezzo per i biglietti standard un altro per i biglietti premium insomma puoi definire tutte le quantità di tutte le tipologie di biglietti che vuoi con il relativo prezzo e la relativa quantità uè Gaudiano ma su sta storia dei biglietti no come si come funziona dal punto di vista fiscale ecco qua questa è una bella domanda perché quando vendi qualcosa online e quando devi gestire micro pagamenti e micro fatturazioni cioè magari il biglietto al tuo evento costa 5 euro allora che fai ti metti lì a creare una fattura e a incassare un pagamento di 5 euro con tutto quello che comporta nella nota di credito nella prima nota e tutte queste cose qui contabile ecco event bright e qua il secondo vantaggio no dicevamo nella gestione dei biglietti pensa a tutto lui tu puoi scegliere due formule puoi scegliere di ricevere direttamente i pagamenti via paypal quindi gli metti il tuo account paypal gli metti i tuoi dati di fatturazione e le persone si iscrivono pagano i soldi arrivano direttamente a te paypal si prende una piccola percentuale ma visto che i soldi arrivano direttamente a te scusate non non intendevo paypal event bright dicevo si prende una piccola percentuale quindi siccome i soldi arrivano direttamente a te allora event bright ti emetterà una fattura che tu salderai perché l'incasso dei biglietti ce l'hai avuto diretto e qua ti devi smazzare tutto tu fatture incassi ma se vuoi lasciar fare a event bright e accettare che gestisca tutto lui event bright farà lui la fattura per il singolo biglietto e semplicemente quando avrai realizzato tutti diciamo l'incasso totale event bright ti manderà un unico pagamento quindi tu la fattura la farai a event bright dopo aver scalato la sua percentuale che rimane comunque sempre la stessa quindi questa facilitazione è essenziale perché non devi preoccuparti di gestire la fatturazione fa tutto lui poi gli puoi dire di inviare o non inviare lui la fattura per per tuo conto alle persone che si iscrivono puoi inserire i tuoi dati fiscali la tua partita event insomma ci sono tante personalizzazioni ora non voglio entrare troppo nello specifico quello che voglio comunicarvi è che event bright può gestire per voi tutta la parte delle transazioni dei pagamenti con carta di credito del fatturazione l'invio dei biglietti ci pensa tutto lui e voi fate semplicemente una sola fattura una sola ricevuta un solo incasso prendendoli da event bright e un'altra cosa secondo me molto interessante è il discorso del pricing multiple lo dicevamo prima puoi creare varie tipologie di biglietto perché probabilmente lo sapete già ma perché è una delle informazioni di base del marketing ma noi quando vediamo dei prezzi associati a un prodotto ragioniamo in forma comparativa cioè non è che facciamo un ragionamento o almeno se abbiamo un singolo prezzo il nostro ragionamento è dall'acquisto di questo prodotto ho un vantaggio a per l'acquisto di questo prodotto mi è richiesto un costo b confronto a con b e dico vale la pena il vantaggio che ne ricavo giustifica il prezzo il costo che avrò e in base a questo ragionamento decido se fare l'acquisto o meno se invece ho vari prezzi il mio ragionamento non confronta più a con b ma confronta b1 con b2 con b3 voglio dire che comprando sempre lo stesso biglietto all'evento io posso avere il biglietto scontato così chiamato 10 euro poi posso avere il biglietto intero 30 euro e poi posso avere il biglietto super 40 euro quando vado ad acquistare l'evento il mio ragionamento non è più vale la pena mettiamo che i biglietti scontati stanno per finire non è più vale la pena spendere 10 euro per andare a questo evento ma è o tra poco non potrò più pagare 10 euro ma pagherò su quei 10 euro altri 30 euro in più perché il biglietto standard costa 40 euro mettiamo ora non mi ricordo bene i rubri che ho detto due secondi fa ma il succo è questo ci concentriamo sulla differenza tra i due o tra i tre prezzi piuttosto che sul rapporto tra il prezzo e il beneficio che ne posso trarre quindi è essenziale poter avere un pricing multiplo avere vari prezzi non è una cosa da sottovalutare ti fa vendere un sacco di più ti fa guadagnare un sacco di più io sono un amante della dell'incasso attraverso carta di credito naturalmente per cose che vengono vendute online consiglio sempre di muoversi in maniera autonoma senza star dietro alle banche andare su paypal creare un pulsante di pagamento permettere alle persone di acquistare i tuoi prodotti o servizi in maniera diretta immediata senza chiedergli prima di telefonarti di contattarti di mandarti l'email ma per fare la stessa cosa con paypal è insomma più scocciante è più impegnativo devi andare là a creare tre diversi pulsanti di pagamento insomma non è la stessa cosa eventbrite ti permette come se stessi non lo so facendo un'operazione di base sul tuo computer semplicemente premendo un più scrivendo il nome del biglietto la quantità e il prezzo di creare i potenzialmente infiniti biglietti per offrire varie alternative di prezzo alle persone che si iscrivono nel tuo evento addirittura se un prezzo è associato a un determinato posto mettiamo che sia uno spettacolo teatrale all'evento puoi dire a quali posti è associato all'evento quindi veramente un grande livello di dettaglio ora senza io per esempio con l'evento che ho organizzato non sono sceso così nello specifico ho semplicemente creato tre prezzi diversi ma ora ho finito tutti i biglietti al prezzo scontato e automaticamente si stanno vendendo i biglietti al prezzo standard quindi è anche molto interessante vedere come questo fatto di passare da una fascia all'altra di prezzo crea un effetto di scarsità no lo sapete che una delle levi del marketing è la scarsità se una cosa non è disponibile per sempre disponibile per un tempo limitato per un numero limitato il mio cervello tende a spingermi ad acquistarla perché perché voglio cogliere l'opportunità è proprio un meccanismo mentale che è presente in tutti quanti quindi il fatto di passare da uno scaglione all'alto di prezzo è un meta messaggio alla testa dei nostri potenziali acquirenti o ragazzi sbrigatevi cogliete questa opportunità e acquistate il biglietto il terzo motivo per utilizzare eventbrite per organizzare i vostri eventi online sono i link che cosa voglio dire la vostra landing page avrà un link univoco un indirizzo web univoco da voi personalizzabile non ho capito questo dell'indirizzo personalizzabile te la spiego subito quando crei l'evento puoi o beccarti l'indirizzo classico www.eventbrite.com co.uk slash un numero univoco relativo all'organizzatore slash oppure puoi personalizzare la url quindi personalizzare l'indirizzo con un dominio di terzo livello per esempio il l'indirizzo dell'evento che io ho creato è video business milano punto eventbrite punto com se voi andate su video business milano punto eventbrite punto com troverete l'evento che organizzato di presentazione del mio libro insieme a luca mazzucchelli e questo indirizzo io ve l'ho potuto dire attraverso il podcast cioè ve lo sto dicendo e voi lo potete ricordare video business milano perché ci sono delle parole che non sono cifre numeri strani quindi è un indirizzo pronunciabile ed è molto molto importante perché poi quando mi scrivono via snapchat e mi dicono scusa dov'è che trovo l'informazione sull'evento del quale hai parlato in quello snap io posso mandargli un messaggio ricordandomi io stesso l'indirizzo quindi senza fare copia e incolla complicate e gli scrivo http due punti slash slash video business milano punto eventbrite punto com questo indirizzo li manda direttamente alla landing page e quindi è un grande vantaggio avere una url un indirizzo web brandizzato ma non è finita qui ragazzi perché eventbrite vi permette anche di creare dei link tracciati per i vostri affiliati dei link personalizzati e univici e univoci che vi consentiranno di tenere traccia chi porta persona al vostro evento uai gaudiano ma cos'è che sono questi affiliati gli affiliati sono tutti coloro che possono ricavando un beneficio economico da questa attività o meno facendolo per simpatia portare i loro amici al tuo evento ora mettiamo che io per esempio insegno all'istituto rossellini che è un corso che parla di video voglio andare dall'istituto rossellini e offrirgli una tipologia di biglietto magari scontato per studenti e voglio vedere quanti biglietti vendo tra i ragazzi dell'istituto rossellini quindi gli manderò cioè in un caso dovrei dargli l'indirizzo classico e contare a uno a uno confrontare vedere se i nomi sono quelli della lista dei ragazzi che ho in classe oppure posso mandare all'istituto rossellini un link affiliato quindi un link personalizzato da me creato nell'interfaccia di eventbrite e quando questi ragazzi si iscriveranno eventbrite mi dirà guarda questa è la lista delle persone iscritte tramite il link affiliato dell'istituto rossellini quindi avrò un grande livello di dettaglio se pensate che poi una classica strategia dell'affiliazione per chi fa eventi seriali è offrire agli affiliati un grande compenso per ogni persona che portano perché se tu mi porti mario per dire io mario non lo conosco è tuo amico tu hai un beneficio economico magari prendi il 100 per cento il 50 per cento del prezzo del biglietto che mario pagherà per venire al mio evento tu inviti mario molto colorosamente a venire al mio evento mario si iscrive al mio evento io ho scritto attraverso questo dettaglio che da eventbrite sugli affiliati quante persone oltre a mario tu hai mandato al mio evento e quanto ho guadagnato per ogni singola persona ti posso riconoscere una commissione anche del 100 per cento perché dall'evento successivo io l'indirizzo di mario ce l'avrò già salvato perché mi si è iscritto a un evento precedente quindi in questo caso io faccio acquisizione clienti a costo zero utilizzando una leva economica quindi offrendo un compenso alle singole persone che motivate da quel compenso alto fanno di tutti si fanno in quattro per diventare miei agenti di marketing e portarmi persone all'evento questa è una delle strategie no quelle quella base proprio più becera dell'affiliazione bene il meccanismo di eventbrite ti consente di fare sia quello che ti ho detto prima con l'istituto rossellini quindi semplicemente tracciare capire chi ti manda le persone quali azioni di marketing hanno più successo se ha più successo la campagna che hai fatto su facebook o la campagna di passaparola che hai fatto attraverso i tuoi contatti personali oppure di fare dei meccanismi veri e propri di affiliazione la possibilità di generare link affiliati e indirizzi web brandizzati per le landing page secondo me ti porta proprio a un altro livello il quarto motivo per cui vi consiglio di utilizzare eventbrite è la riprova sociale che cos'è la riprova sociale è una funzionalità che eventbrite ti offre nel design della pagina cioè puoi dire eventbrite mostra sia i nomi e i cognomi degli iscritti all'evento quindi puoi far vedere chi sono e quante sono le persone che già sono iscritte all'evento e la il fatto che determinate persone magari sono influenze già partecipino all'evento ti può aiutare a vendere più biglietti dall'altra parte puoi attivare un'altra funzionalità che consente a eventbrite dimostrare al signor mario di nuovo che viene sulla mia landing page ed è indeciso se acquistarono il biglietto dell'evento dimostri i suoi amici di facebook che vengono all'evento su eventi di una certa dimensione o su eventi in cui vai a lavorare su un target preciso di persone questo è fondamentale perché alla fine se tu ci pensi puoi creare una strategia in cui fai un evento al mese e le persone che si sono conosciute all'evento a che quindi hanno sviluppato anche una empatia tra di loro si stanno simpatiche hanno avviato delle collaborazioni possono andare a vedere la landing page dell'evento b e dire oh guarda c'è già francesca luigi c'è mario se è scritto pure mario allora mi scrivo pure io così ho anche il piacere di rivedere mario quindi utilizza una leva sociale per motivare la tua iscrizione all'evento e dulcis in fondo l'ultimo motivo per cui secondo me vale la pena di utilizzare eventbrite per organizzare i tuoi eventi attraverso il mondo digitale ragazzi è una figatina tecnologica è la app di eventbrite eventbrite ha due app diverse una è per utilizzare eventbrite da utente quindi te la installi sul telefono e poi puoi andare a fare che ne so a iscriverti agli eventi direttamente dallo smartphone ma quella più figa si chiama organizer scritto con la s naturalmente metto il link nelle note dell'episodio organizer ti permette una volta scaricata e logato nel tuo account eventbrite di fare il check in delle persone con il codice a barre che cos'è quando arriva il giorno del mio evento per esempio a milano io andrò sul mio pannello di eventbrite gli dirò stampami la lista dei partecipanti lui mi stamperà tutta un pdf mi farà scaricare un pdf con il nome il cognome e altre informazioni che voglio della persona che si è iscritta e alla fine un codice a barre anche le persone che si sono iscritte con il loro biglietto si potranno presentare hanno il biglietto con il codice a barre bene io potrò o invece diciamo invece di segnarle sulla lista classicamente come si chiama e segnare che la persona è venuta potrò far fare alle persone che faranno l'accoglienza il check in tramite codice a barre perché aprendo l'applicazione cliccando check in ti si aprirà la la fotocamera e inquadrando il codice a barre sul biglietto della persona o se la persona non ha portato il biglietto inquadrando il codice a barre dalla lista che mi sono stampato del dei partecipanti posso fare il check in e sapere chi è venuto chi non è venuto quante persone devo ancora aspettare se era un evento gratuito quanti sono effettivamente venuti dopo che mi avevano detto che venivano quindi iscrivendosi tramite event bright insomma posso completare il processo fare quella cosa fighissima che è il login digitale mandando direttamente le informazioni nel mio account event bright e potendo fare delle analisi successive quindi già è figo per controllare se sei iscritto o non sei iscritto perché tu arrivi col biglietto ti scannerizzo il biglietto e tu entri in sala quindi molto smart molto digital molto veloce quelle informazioni finiscono tutte su event bright e mi permettono di fare analisi subito dopo quindi con questa possibilità il mio evento non finisce il giorno dell'evento ma il mio evento continua anche dopo perché a quel punto posso utilizzare ottimizzare in maniera continua i miei futuri eventi sui dati sulle informazioni degli eventi passati ragazzi siamo arrivati alla fine di questo episodio sul souvenir digitale su event bright il modo per organizzare gli eventi attraverso il digital che ti semplifica la vita sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate per cui mi raccomando lasciatemi i vostri commenti e venite su snapchat ragazzi c'è il link diretto al mio profilo nelle note dell'episodio oppure se avete snapchat mi cercate giulio gaudiano la potete mandarmi un messaggio diretto che sia di testo che sia un messaggio audio che sia un video mi dite che cosa ne pensate di event bright se l'avete provato se avete dei dubbi delle domande me le sparate e non dimenticate che potete anche mandarmi domande più articolate da infilare nelle nel podcast quindi vi risponderò live attraverso strategia digitale io voglio ringraziare anche uno di voi gli ascoltatori mind b e il suo nome utente su itunes che mi ha lasciato una bellissima recensione dal titolo bravo giulio la recensione recita giulio è un professionista straordinario ha una notevole capacità di approfondimento e riesce a rendere comprensibili a tutti gli argomenti che tratta il suo podcast è un importante riferimento anche per gli addetti ai lavori da seguire grazie mille io come al solito ho l'arrossimento della lettura della recensione perché mi fate dei complimenti fantastici io li giro al mio team ai le persone che insieme a me contribuiscono a creare e a sperimentare per poter creare sempre nuovi contenuti per strategia digitale quindi ragazzi per oggi è tutto e allora il mio grazie va a sarà velti la coautrice del programma a costanza mineo la nostra futura sposa che monta come fonico le puntate di strategia digitale e naturalmente anche a giorgio che la sta sostituendo durante durante la sua luna di miele e a radiospeaker.it curatore del nostro sound design grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano